Per aprire il NAT della One, tu selezioni, hai varie opzioni, tra cui c'è scritto Xbox One Live. Se tu lo clicchi, lui ti mette in automatico già tutte le porte con i protocolli aperti. Se devi solo mettere l'indirizzo IP della console, attivi e in teoria dovrebbe andare. A parte che qui è già aperto, solo che non vedo sti cambiamenti per dirti. Tipo se tu mi guardi vedi tutto a schermo intero. Io invece ho lo schermo a sinistra, 4 terzi, e a destra ho aperto Twitch, che vedo anche se qualcuno mi scrive in tempo reale. No, dovrei avere il Kinect. Se ho il Kinect lo attivo e tu vedi anche il quadratino o in alto o in basso o a destra o a sinistra con il mio volto. Sì, è quello che dicevo prima. Devi avere una scheda di acquisizione tramite un programma del computer che o OBS o XSplit, ce ne sono tanti che poi li vedi anche dal sito di Twitch. Con quello lì lo puoi personalizzare, puoi mettere un banner tuo, una finestrella con delle immagini, puoi fare quel cazzo che ti pare. Però devi avere questa scheda di acquisizione che o la Vermedia, l'Elgato li avrete sentiti, l'HDPVR, quelle robe lì. E poi tramite PC con questo programma o anche altre fai tutto. Però con l'app che hai sulle console, tipo con la PS4, se tu trasmetti è diversa l'interfaccia perché vedi un quadratino o piccolino in alto a destra? Poi vedi anche la chat che scorre. Volendola puoi togliere, ma poi devi avere o un tablet o una roba dove leggi... Sì, 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 quello è tutto tramite... anche quando te ti iscrivi a un canale, tipo parte l'animazione col tuo nome, nuovo follower, robe così. Oppure quando fai una donazione o altro. Quello è chiaramente tutto tramite, come ti ho detto. Perché in Twitch tu puoi anche mettere... Se hai un conto Paypal, praticamente uno può farti una donazione. Ti dà dei soldi nel conto Paypal. Solo perché magari... Perché magari vede, boh, che sei uno che... Ha la faccia tosta, che fa il coglione, fa divertire, che sei bravo a giocare e ti fa la donazione. Sì, lo so, è una cosa un po' strana, però su Twitch in America è molto diffuso. Per me è una roba stupida dare dei soldi a uno solo per vederlo giocare. Sono il primo a dirlo. E oltre a questo organizzano degli eventi che si chiamano subscribe event che tu solo per interagire in chat e scrivere ti devi praticamente abbonare un mese alla subscribe pagando 5 euro solo per scriverli in chat. Se no, non puoi interagire in chat. Ma infatti... Cioè, io ti devo dare 5 euro e per un mese posso scriverti in chat. Se no, non posso scriverti. Aspetta. Questi, praticamente, per fare i soldi su Twitch. E oltre a questi qui... Se tu raggiungi TOT visualizzazioni e TOT follower Twitch ti dà la partner e ogni volta che vai a vedere un video appare pure la pubblicità. Se tu hai la partner ogni volta che appare la pubblicità ti vengono dati dei soldi. Praticamente. Come avviene anche su YouTube. Devi avere tanti follower e tante visualizzazioni. Dopo Twitch ti dà la partner Esatto. Loro... Perché loro... Più gente stream e hanno la partner più pubblicità viene messa e una minima parte dei soldi della pubblicità te la danno a te ma la granata safetta se la prendono loro. C'è gente in America si fa anche 3.000-4.000 euro al mese. Però minimo per guadagnare devi avere 1.000-2.000 persone che ti guardano al giorno. Adesso basta che Ghost è arrabbiato che non voleva sentire queste cose. tipo questo qua mi ha spalmato un Sogre West mi ha spalmato un link su qua Ciao Vampo Aspetta che esci ecco grandissimo Io prendo questo Ciao Fire Mama Cazzo mi fu in culo Io credo che tu sei in culo hai scoperto i bicicletti nell'alli e siamo quasi a passare Oh Karas è arrivato al limite con la vita Occhio che c'è la la sbarra Cazzo io una moto così ma la comprirei porca puttana non è affatto no a me piace la l'Aprilia Shiver se la conosci è tipo una naked bellissima c'è i controlli come si chiamano Wai Byer Wiley no è è il controllo del gas elettronico Wai Byer Wiley Marco Javi ciao ciao Woi rai'de cara 3 che cos'è wild ride in gta wild ride che cos'è in gta qua uno mi ha scritto fai wild ride non so che cazzo sia siamo già in quattro per fare il colpo per il momento squadra si mi scrive se vuol giocare però siamo già squadra piena comunque io ho schermo nero che sta caricando è una cosa complicata che si trova nelle gare a wild ride non l'ho mai fatto non so se l'avete fatto voi come fai e mi scrive come fai a non sapere wild ride non lo so non sono nato imparato non so tutto ok adesso mi ha caricato si ma non non facciamo le gare Marco facciamo i colpi io aspetto l'invito per fare ste gare dice partite veloci gare e poi wild ride pagano bene queste wild ride Marco domanda adesso aspetto che mi risponda magari se pagano bene possiamo anche farle e hai mandato lì non lo sa non lo sa vabbè se ci va per provare si può anche fare poi come volete voi vabbè non lo sa non lo sa Ieri ho visto Maria De Filippi, prima ho visto l'Irae Glaciale 4 e poi mi sono guardato Maria De Filippi Ciao a dopo, ciao ciao Marco Sì, giubbotto super pesante Sì, giubbotto super pesante Quanto c'è dai? Sembra giusto, sembra giusto No, facciamo anche così dai Eh così va bene, 200.000, 200.000 e te 400.000 Va bene per me così, va benissimo Vai 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 Sì, giubbotto super pesante , , , , , Il dio denaro è il dio denaro, quindi... No, no, manco per il cazzo. Lo do a me. Va via? Nooo... No, così no, per favore, a sé. Dai, andiamo così, dai. No, com'è la moto? L'ho messo con una roma blindata. Oh, eh... Grazie del... Grazie. È un sbagliato. Il pregio la moto. No, no, non lo so. No, no, non lo so. No, non lo so. Come va. Ah, 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 ah. The guards are down. Okay, demolition. It's blow the first gate. Charges are on a timer. Keep that in mind. Remember, the gates you're going through are a special alloy. Only the thermal charges you've got from the convoy will work on them. Stay in control. If they think you're weak, they might try something. It's like a movie! Demolitions is through the first gate. Grazie a tutti i nostri spettatori. Vai, computer. That's it, the vault door's opening. Demolitions, use the remaining thermal explosives on the titanium gates in the vault. This would be the worst way to die. Boom, you're in! Get all the cash you can carry! Ahem, ahem. Ahem. Okay, now regroup back on the main floor. Think about what you're doing. This is fun! No one needs to die! 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 Oh! 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 Oh, i got it! Oh! Porca puttana Aspetta mi son perso Non vuoi rimanere qui Se segui così veloce che puoi Continua subito l'allio Eh ma ce li leva dopo eh F*** bella l'uscita la macchina è volata Quindi se io uso il minigun non consumo niente Sicuri? No a me invece mi consuma Ah lo zari post Oh aspettateci però Eccomi Now further down the hill take a right Now make a play for the bikes They're up ahead where you stashed behind that apartment building We left some body armor by the bikes if you need Grab and go people grab and go Use the bikes to get away from the cops and to get upstate We left a dinghy at Ratten Canyon That's your exit plan There's a route coming near GPS now It'll take you off road away from the cops and towards our boat Stay together or go a different way if you want But this will be the safest route Eh no 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 I like the way you operate if this job gone different We'd be dealing with a whole lot more cops We'd be dealing with a whole lot more cops We'd be dealing with a whole lot more cops Vettiamo stacaricando. So, uh, have any dye packs gone off in the bags? You'd know because you'd be covered in paint? No? Ugh, that means the transponder's worked. Thank you, Avi Schwartzman. Via, Bona, andiamo su questo. Siamo noi al garage? Siamo dove nel garage? Eh, blindato anche quello. Non puoi accedere a questo veicolo. C'è uscito, non è uscito rimasti qui, eh? You know when you'll have lots of time, when you're put in jail for robbing a bank and putting down a load of cops, you don't have time right now, get out of there as crazy can. Minchia, che spoiler ho immesso. È più grande lo spoiler della macchina. Ma. Ma la visuale da dentro è troppo bella Dopo vatti a rivedere la replica No, no, no Quando un giorno diventerete famosi Bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove l'hai tirata quella macchina? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove è cazzo? Dove è andata? Madonna... Madonna... C'è un po' di lag... Vai... Solo un po'... Se vuoi vederlo in diretta... Ma... Va a vedere la replica mia... La metto su YouTube... Anch'io... Io lo vedo a trasportarsi... In un punto... Poi in un altro... Ma che cazzo... Io lo faccio bello... Io lo faccio bello... Meno male che abbiamo l'alettone che ci fa planare... Dai dai che qua non facciamo in tempo manco arrivare... Al lago... Al fiume... Io lo faccio bello... Cazzo... Ehi... Cazzo... Ch identico... Ch Ella... Papà... Io là... ... O expectations... E forse arriviamo a pelo Grazie il taxometro non lo pago perchè il viaggio ha fatto schifo Dai sali guarda C'è anche te porca troia cambia posta l'ultima No Non va Perchè lui no Oh Non mi ricordo i buoni tempi Alla riuscita che abbiamo avuto Alla famiglia Il picnico Il picnico Il picnico Alla foto Oh E la volta che stavamo rullerplati E guardavamo il sole E restavamo Alla prossima E guardando i nostri Ilari E E E E Ma 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 Ehm... 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 Oh... Oh... Ha! What are you saying? Ehm... I... The drugs! Oh, man, the drugs! I'm a... I'm a heavily medicated man, I... I'm not well... At all... I, uh... I'm a little embarrassed, um... Ok! The money! Here... And... Here... And... Here... And... Here! Ok! You better take off! And, uh, take care! Ok! Bye-bye! And, um... Ehm... 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 No, Patissa... No! E' vero che mi vuole più soldi E' vero che mi vuole andiamo a prendere una birra saldante saldante si piglia un camion ti vengo nel culo ti vengo nel culo oh 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 basta dai perchè fate così dobbiamo stare dalla stessa parte ci vogliamo bene ok carino dai a ravel puttana volevo tirar la molotov a te ma il poliziotto si è messo davanti e io l'ho esploso in testa poi mi sono abbracciato anch'io dai andiamo a fare qualcosa chi deve guadagnare i moni chanquin ferro oh 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 Grazie a tutti. 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 Io faccio una cosa, adesso chiamo l'elicottero. Si è zancuto. Chiamiamo l'elicottero. Dai, chi viene con me? Cazzo scusa, ho sbagliato, ho sbagliato, ho presunto no, perché stavo guardando una roba. Non rimandi? Non rimandi? Bulldozer, ok. No, 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 no. No, 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 no. Si. Si. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta, io sono il navigatore o l'autista? Te la fa guidare? Aspetta. Aspetta. Aspetta, devo attivare una roba? Sul telefono. Ok. Sulla... Ce ne abbiamo uno dietro di noi. Aspetta. Avanti. Ancora dritto. Vai dritto, dritto. Aspetta, ne abbiamo due dietro, porca troia. Me ne dice. Sempre dritto così. È proprio dritto davanti a noi. Aspetta. 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 Fatta apposta. Io non voglio fare il navigatore. Io sono un pilota. Lo dicono tutti. Ah, tipo la camicia da boscaiolo. Ah, se ho insalito qua. Questa non è la mia. Ah. Allora, qua a destra. Ce ne abbiamo uno proprio di nuovo a destra. Piano, piano. Distra. Destra. E ma diobò. Non so come cazzo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tira a destra. Sì, ma non capisco. Più si mi avvicina, più si allontana il pallino. Boh. Non capisco com'è leggere sto cazzo di rai. Ecco, ecco, ecco. L'abbiamo passato. Torna indietro. Gira qua a sinistra. Dovremo incrociare. Qua a sinistra. Ma porca, vedi che si allontana? Destra. Ma io adesso lo seguo. Poi vediamo dove porta. Io mi avvicino più a lontana. Destra. Sinistra. Dovrebbe essere qui sopra. Eccolo. Pregezzi. Di etro. Di etro. Qui, qui si. Qui a sinistra Destra E giù Dritto 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 Sinistra Sinistra Destra 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 Uscita a destra Ma dove cazzo sei? Voi dritto 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 Sinistra L'han preso loro Vai 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 Sinistra Aspetta rallenta Vai vai Dal ponte vai a sinistra Ce l'abbiamo in basso In basso alla strada In basso alla strada E giù sotto nell'autostrada Risali E dopo a destra Ce l'ho da dietro Destra Destra D'am preso loro D'am preso No! I've got all four plates now. Hold on while I run them against their database. Bingo! I found our guy. Let me ping you the location. Great little app at, uh, Trackify. It's by great I mean barely functional. But we found the van, so five star rating. Ooh, recommended to your friends. You should enjoy that version while it's live. The next update installs micropayments. Maybe it doesn't really, but uh, actually probably should. Maybe it's a trap. 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 Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Io andavo a prendere l'Hydra Anch'io Grazie Come no? Ti ricordi? Mi ricordo che Come no? La prima volta, non vi ricordate? Ma che cosa stai dicendo? Io gli ho già fatti tutti i colpi C'ho gli obiettivi sbloccati, da quel mo Eh, dopo è uscito Destin Non è vero? No, sì No No Ah di, si può fare Sì Ah si può fare, si può fare Facciamo adesso, dai Ah di, si può fare Gaga gaga. 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 Io fu da fuori. Fu da fuori da fuori. Non è successo. Eh venite sul camper che sono da su. Il suo più possibile! è resistenza! Sì Sì Mettila è difficile Difficile Karuma No No Kuruma Giusto Chi è che ha detto Kuruma Ok Adesso bravo Dopo Fra Qualche minuto Ah E aiuta anche per le morroidi Dai ragazzi Ragazzi Fatemi Aspettate un attimo Fatemi un favore Andiamo Andiamo in chat di gioco Dai Così è più bello con le vostre voci Eh dai Cazzo Fatemi di contento No No schiaccio È già attivato Dai Ehi Cosa sono Sti paroloni E Cosa sta nel culo Quella Ciao Fai 200 Milioni e 40 Da lato F but no F y 2 Zero 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 Quattro 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 Oh I mean, I know guys who go into hiding, and don't even change their golf club. The cops are not that smart, or motivated. Wait, wait, wait. Oh, uh, yeah. Schwartzman, he's reluctantly agreed to help us tune in to the Pacific Standard Frequency. Give him the transponder, let him do his thing, then give it to Page. I've packed silence pistols, sniper rifles, and F-A-Packs, just in case. Okay, uh, slight change of plans. So, it would appear that some of Avi's paranoia might have been somewhat justified. Our call got picked up, they came after him, and he ran. Alex holed up in a hut on some small island off the coast, surrounded by about 20 government agents. Much as I'd love to hang him out to dry, he's our only shot at this. Well, it's kind of our fault, so. So, I'm sending you to a rental place on Innocino Road, pick up some sea sharks, and get out to the island. I'm sending you to the island. So, I'm sending you to your lower storage chain. By the way, I have to let you know, Üb terresto me. I got a full станцию to exit. I got a full request on your son, just ask me to crawl out the air by now the intent on you. So often at this website I got a full grain of stock�aced... Sì ma non state andando con vai sott'acqua devi attivare la modalità sommergibile eh dire paghi se la rompi ma non state andando con ma non state andando con strano a me ancora non mi appare la zona all'isolotto non è vero te sei in amma ah ok adesso mi è apparso mi è apparito ma secchiamo l'elicottero per farmi venire a prendere ah avete già fatto ok ah che cazzo è successo con tutta la fatica sono arrivato boom fallito siete tutti dei gay si è sempre colpa dell'albero chiaramente e adesso chiamiamo l'elicottero di supporto non è la rossa è la mia vettacchia che va spetta che sparroste Oh, ha, ha, ha. auguri cazzo mi sto non facendo del male non vedo niente con tutte queste fogliacce non vedo niente con tutti 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 e si 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 adesso sparo non vedo niente con tutti no no adesso sparo cercavo l'arma giusta ecco ecco c'ho l'arma giusta non vedo niente con non vedo niente con tutti 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 non vedo niente con l'arma Sì, 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 sì. vaffanculo troviamo l'elicottero lo tiro giù 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 e giù giù lo tiro giù lo tiro giù ecco va giù va giù è ancora vivo quello non è altro ok ok vai vai occhio e due elicotteri stanno perlustrando e stanno venendo verso di qua ok 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 Grazie a tutti. Oh, ma il tipo è rimasto là. Ah, dobbiamo prendere il veicolo. Il veicolo? Sperma quello. Il veicolo. Il veicolo. Non c'è la faccia. Nonostante abbiamo preso il mezzo più veloce di GTA. Non c'è la faccia. Non c'è la faccia. Get the hermit out of his hut and go. Non c'è la faccia. 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 chi è la faccia. chi è la faccia? Non c'è la faccia. Non c'è la faccia. Sì, ho bettato. ... ... ... ... ... No, 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 no. Non dovrebbe essere mai riuscito a me. Non è vero, non è vero. Non ti rispondi la telefono a Lester Crest. Ok, ok! Andiamo! Andiamo fuori da qui. ma dove va quello ma dove andate voi perché siete andati via dai ma cassezzato capito ciao manuel oh ma ci siete o no mi ignorate fate i bastardi ciao 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 Non mi piace! Facci il stopto! Ora sono dopo voi anche! Sono dopo tutti noi! We should go to the hills Talk All this for the Pacific Standard Fine Wood? It ain't worth it Not even for the Union Depository All this for the Pacific Standard Fine Wood All this for the Pacific Standard Fine Wood Let me in the head before they take me They have to destroy the brain Or they'll bring it back to life in a jar You have to drop the heat before you meet Paige I haven't spent this long in another person's company since that owl died last spring He cooked good All this for the Pacific Standard Time For the Pacific Standard Time I wish it left me alone. I didn't do anything. I was pruning the bush, not exposing myself in it. I wish it was a good one. Sì, sei un uomo? Non è un uomo, sto ai aiutando a Lester. Hai fatto? Che? Hai fatto? Non ho la frequenza del pacifico del pacifico, non ho i miei strumenti. Non è così conveniente. Ho alcuni strumenti. Sì, vabbè, riusciremo a rinforzare il tuo posto. E non preoccuparti, il trasponder sarà pronto per il lavoro. Oh, ma ci siete? Allora, un uomo, sto aiutando a Lester. Oh, yeah. Pronto, pronto. C'è qualcuno che mi ascolta. Ah. C'è qualcuno che mi ascolta. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Sì, l'ho visto, l'ho visto Ok Aspetta che il furgone è bianco Ok Ma va là Per scendere dalla macchina Ho smontato lo sportello Ci credi? No, è sceso Ma lo sportello è proprio se... L'ho smontato Ti lo giuro Si è staccato Aspetta eh Sali sul furgone nero Aspetta vuoi salire dietro? No No C'è neanche tu di dietro Così spariamo assieme Ehi Ha buttato giù il rimacchio No, buttalo giù è tranquillo è tranquillo Grazie a tutti 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 Aspetta ti devo dire una cosa Ti voglio tagliare una ascella A farti un taglio della scena Sì Io pure spacco bottiglia Che cazzo vuoi? Si Taglio Taglio il culo Taglio la figa Ma a uno Ma a uno gli ho tagliato un brazzo non gli ho fatto niente Strano Ma chi è? Ma chi è quello yacht fantasmagorico? È tuo? È arrivato l'invito di bulldozer accettiamo? Ma non è un'altra cosa? Ma non è un'altra cosa? Grazie. Ahem. 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 Mamma mia, quanti ruttini che faccio. Sono proprio un bimbo che fa tanti ruttini. Tanti, tanti. Basta. Torniamo noi. Ragazzi, allora dai, prendetevi The Division, così dopo giochiamo assieme. Non vi piace? Eh? Come? È una sparatutto in terza persona. Però tipo, stile gioco di ruolo, MMO. C'è l'equipaggiamento. Perché? T'ha stufato? Te ne danno quattro di PlayStation 2. E facciamo il cambio. Dai, su, vieni. Te prenditi The Division. Che ci divertiamo. Che ti fa il personaggio. Devi mettere l'equipaggiamento migliore per aver più difesa. Gli armi migliori. Le puoi moddare, le armi. Guardate un gameplay, per farti un'idea. Bravissimo. Tom Glances, The Division. Della serie Tom Glances. Sì, sì. Non l'hai neanche visto. Comunque, il 16 esce la beta, l'open beta per tutti, aperta. Quindi magari lo provi, poi proviamo assieme magari. Lo scarico anch'io, ci giochiamo assieme. Revisazione. Sì, sì. Prisca Colle. Qui verità. C'è qualcosa di piùよね. Chi? Ok. eh un attimo non deve decidere come vestirsi ma sta a fretta sempre sta a fretta qui va piano va sano va lontano bello lo voglio anch'io quanto è che costa? io e invece quello con la torretta ok quindi siamo andati per le caratteristiche andiamo a Galafia e tornare con il POA non te adesso cosa bisogna premere? ah ok vai io ho premuto dovete votare anche voi premere il D-pad a destra cruzio a destra manca uno ok 4000 key per fare il viaggio rapido vaffanculo loro non lo facevano mese mozzo di nero non lo facevano Grazie. Oh, perché gira? Dove va? Cazzo di traiettoria fa? Dove va? Va giù? Ah, di buono. Bel colpo. Il convoio è vicino a te. Pregozare il dettaglio di Meriweather e prendere il traccio. libero no, no, il cazzo è libero ah, salite con lui starai io alla torretta c'è l'elicottero c'è l'elicottero sto morendo c'è l'elicottero c'è l'elicottero c'è l'elicottero c'è l'elicottero rimasto bagato là guarda arria, 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 adesso c'è l'elicottero un damage arria, 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 arria avitare il giù dal punto perché non facciamo il colpo di trevor mi piace quello a bè sì sì ops su davanti davanti a me è rimasto uno là è rimasto un buco guarda quelli io boh chi è che è un buco è il Mi24 è il Mi24 il Mi24 a Tutti Grazie a tutti. 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 Ancora, io e gli sportelli. non ci rinuncio. cosa? Grazie a tutti. Ciao, c'è, c'è, c'è. ce n'è, c'è, c'è. da quanto sta, c'è, c'è. anti-proiettile. e, c'è, c'è, c'è... Sì, la macchina è mia la guido io forse è meglio che adesso non gli apro gli sportelli che se la voglia bene 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 non no bene ne E' una testa Dietro tutto Vabbè dai Dove vai un po' indietro? E' proprio il mezzo casino Il parcheggiatore dell'anno va a Grazie Io prego qualcun altro vuol montare Dove cassa è qua Dentro il garage Sì infatti li vado a prendere I think you're in the clear Drop the bikes in the alley And we're nearly a go Porca puttana Furgone di merda Che mi taglia la strada Falta la strada Buongiorno a tutti. Grazie 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 a tutti. Insensibile. Ok, evento è finito. Allora, adesso dovrebbe arrivare l'email. Ah, ecco, continuo al colpo. Partire... E vi invito. Grazie a tutti. Un momento. Un momento che carica. Metto in difficile. Interceptor. Allora... 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 L'invito... L'invito la manda... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Do... Che la forza sia con te. Qui... Qui mi dice che l'invito vi è arrivato. Però non sta entro... Però non sta entrando nessuno. 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 Non mi ricordo un po' che... Va bene. Ciao. Ciao. Sì sì, tanto spettio Xbox One Sì, tanto spettio Sì, tanto spettio Sì, su Xbox paga un abbonamento Annualmente o trimestrale Un anno 60 euro Tre mesi 24 Ma su internet un anno lo trovi anche a 35 euro Oh, ma non entrate? Oh, sono usciti dal gruppo Che cazzo fate? Che cazzo fate? Sì, tanto spettio Grazie a tutti. 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 Ciao, GianBanca02. Bel nome. Bo, lo ripropongo? Lo rifaccio? Quanti soldini ho? 580. 580. 580. 580. ho messo tutti dall'ultimo colpo però l'ha mandato a bulldozer prego ecco adesso è arrivato a ghost e a te scs tu stai entrando qua mi va bene la live corre bene ok adesso faccio invito automaticamente tanto se sei entrato la sala la apro hai la possibilità anche tu di invitare persone speriamo che di iniziare hai il tablet a portata caro 3 ciao samuro 0-3 samurock 0-3 ci chiedono se facciamo un LTS dopo un ragazzo qui una modalità in gta ma non lo so perché non si chiama teo game ciao interseptor se qualcuno si vuole unire qua fare una partita dato che non troviamo due ah si il last team standing si lo so ma se lo vuoi fare la modalità caratrash a me non piace tanto si non troviamo nessuno qui si faccio video su youtube ma non è che roba da hollywood roba fatta così a alla mano ok fatta così spartana dai a volte posto anche le repliche di twitch su youtube a volte faccio video io col cellulare ma è robetta non è roba da steve spilberg o roba del genere samurock giochi è sulla one sull'xbox o qualcuno di voi vuol venire con me il mio amico a fare una partita grazie se ne manca uno qua si ma a livello 12 che cosa fa questo mi dispiace ma non è che tanto d'aiuto no almeno devi essere per far le rapine i colpi almeno a livello grado 100 12 cosa fai ah è su ps4 eh infatti ah io sono su one samurock peccato comunque quando rimedi i bimbini ho intenzione di prendermela anche io una ps4 più avanti nel tempo vediamo e la tengo solo per le sue esclusive il resto lo prendo tutto su one via speriamo che non esca nessuno solo che quello di livello 12 quello crepa subito e ormai ho avviato anche io ps4 una one una snobano ecco ma da porca puttana no non è che ti ha buttato fuori che sono usciti e ha annullato tutto lo fanno apposta capito ma entrano sanno già che escono per far perdere tempo ecco io tutti i colpi le prime volte li ho fatti così ma sai le volte che ho dovuto far ripartire un cosa perchè la gente usciva dai no io minecraft non ce l'ho ciao ciao samurok ce l'avevo in digitale su 360 ma non sono un creativo non mi piace tanto per uno che è creativo invece buon gioco ciao 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 Firemama che prima voleva giocare Gli ho già mandato 4 inviti Non via Ah si Adesso magari provo l'ultima volta Qua se entra qualcuno poi vado a cazzeggiare Un po' Ci stai caratress? Facciamo un po' di cazzeggio se non entra nessuno Caratress si Eh se non entra ancora nessuno Ti va di andare un po' in pubblica A fare due stronzate così a cazzeggiare Ok Allora facciamo L'ultimo tentativo Se non entra nessuno che vanno via Andiamo a cazzeggiare in pubblica Andiamo a prenderci lì Lì l'arriere Ah zancudo Dovrebbe essere lì credo Allora facciamo un po' in pubblica Mi ha abbandonato Dai vabbè usciamo Allora Allora Sì Sì Io l'ho yacht Auto L'ho Wither Eccetera Anche il mio amico ha lo yacht Io non ce l'ho Costa Mui Riguardo ai Che se io sapessi 4 Faccio parte della crew Più forte in Italia La schio Magari la conoscete No Non la conosco Perché tanto GTA Non è che L'ho ripreso un po' E' un po' che non ci giocavo E' un po' che non ci giocavo 675 mila Nell'insuvergent Miga rotta E' il savage Che nome Io c'ho 582 mila Andiamo sullo yacht Di Caratress Anche il po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 E' arrivata la tipa nello yacht e mi inizia a laggare la trasmissione Deve essere sto culo Ma potevano ammettere la funzionalità Eh lo so che lagga, schiaffeggia Vero? Hai un altro in te, bambi? Ciao Francesco Mineo Ciao Marco Gavi Spara la tipa col cecchino Eh ma le armi sono disabilitate qui dentro Ecco Just one more dance, you know you want it Ok baby, quando sei pronta Francesco Mineo, ciao Che la forza sia con te Idromassaggio Cos'è? Vai vai Filotto io Filotti tu Magari dopo Ah sì sì, adesso lo andiamo a fare Dai dove c'è lo yacht simbolino giallo Lo vedi no sulla mappa lo yacht in giallo Ma se arriviamo dall'alto Ma se arriviamo dall'alto non ci abbatte la difesa contraere E allora E allora Arriviamo in un punto vicino Poi prendiamo il motoscafo E infatti Arriviamo per via mare No via terra Sono molto E qua arriva una Ci stanno sparando E magari esce sto stronz Ah ok Figarotta Dai monta Eh se non monta Va bene Ci stanno mirando Eccolo è lì è lì Combattimento aereo Contro un Hydra Ahia Sono quelli lì dello yacht giusto Che si Che difendono Le contraere sono off In questa modalità Ma sono I proprietari Ah non so Do stai caras Caro amico caras Ah sei qui Non so Adesso proviamo Quelli lì avevano Il coso L'aereo a decollo verticale Vero? Avevano l'arriere Alla Lo yacht Ou è fare così Eh dietro di noi A questa altezza Ok tu ti sei buttato Dove Ah ok sei qui E adesso Ah Anch'io E la Puttana M'ha M'ha tranciato Ma che Ha fatto Una picchiata L'ha ripreso subito Di ciò che si schiantava Puttana Puttana è bravo Questo come pilota Casso Volteggio ancora Dov'è sto Fin di puttana Puttana ma Tira Puttana oh ma Questo Chi è È un top gun Mi sta smitragliando Come se non ci fosse un domani Come se non ci fosse un domani Nooo Non Non me lo dire Non ho i razzi a ricerca Gli ho finiti tutti Adesso che cazzo gli spari Sassi Come faccio Da qui Pago Inventario Munizioni Sì sì Lo sto facendo Thanks thanks Grande Aspetta che Anche con RPG Vabbè Ma Almeno L'altro è guidato RPG Devi mirar bene Arma pesante Lancia granate Lancia rasi Minigun Ok Fatto C'è qualcuno Che mi sta sparando Qua A piedi Vedo simbolo rosso Karatras Eh sì Deve essere uno Dei difensori Dove cazzo C'è andato Sì aspetta che Questo mi sta inculando A bestia E là Si trovi un mezzo Per favore Vieni a prendere Ciao il grande calciatore Che la forza Che la forza sia con te Grande calciatore Angelo Angelo Se sei Sei una merda Eh se io sono una merda Adesso Ammardone Dai Caratras Fini che c'è uno Da bannare No Non si paga Per iscriversi a Twitch Ti fai il profilo Sul sito È gratuito Sì aspetta che la forza sia con te Prego Sta scadendo l'evento Guarda cosa non so Perché Il boss di questa organizzazione Vuole che diventi una sua guardia Eh Va bene No Casca Chi hai bannato Angelo Cirillo 23 Bravo Hai fatto bene Mi ha abba Che fiume Che rato È Fili bove Tanto Le ho Disabilitate Le bestemmie Quindi Ti appaiono Le asterischi Comunque Ciao Perché se scrivi Qualcosa Riferito Bestemmia Gli ho tolto E quindi Ti appaiono Le asterischi Mi viene a dare una mano Che c'è sto qua Che mi rompe il cazzo Mi spara dalla collina Eh Io sono vicino A una spiaggia Vieni a prendere Se puoi Se è possibile For you Help me Please Che cazzo GTA 5 Online Teogame 84 No no Non dico Che vuoi Le bestemmie Però vedo Che hai scritto O E poi Ci sono Tre asterischi Vuol dire Che Hai inserito Una parola Che magari Io ho disabilitato Perché molti Scrivono Le bestemmie Non è Che ce l'ho Con te Va bene Dopo quando Finisco qui Ti aggiungo Dai Caratress Vieni a aiutarmi Che questo Mi sforacchia Caratress Sei nel limbo Vero Figa Questo mi sta riempendo Non mi molla Cioè potrebbe benissimo Andarci a fare una passeggiata Che domenica Oggi Invece mi deve Mi deve cagare I coglioni FIFA Non ce l'ho Sì Volevo prendere Lo FIFA Ma Che è 28 euro Ma Ho dovuto Mi ero iscritto A EA Access E mi hanno Automaticamente Messo L'abbonamento Automatico Cioè Ogni mese Mi levavano 4 euro Ho dovuto Chiamare L'assistenza Xbox Per farmi Levare L'abbonamento Perché Altrimenti Ogni mese Mi levavano 4 euro Cosa vicino ad altre Non c'è Esti vedo quindi adesso vedo se riesco a prenderlo adesso vedo perché lo volevo prendere ecco me spara ora è grande carico no Caratress non lo senti perché è in gruppo è nella chat di gruppo quindi la voce non si sente se si mettesse in chat di gioco si sentirebbe dovrebbe solo che vuoi stare in gruppo giusto? si però li puoi mutare gli altri game questi qua che ci sono in GTA aspetta io faccio una prova voglio vedere se magari qualcuno sta parlando te intanto vai provo 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 one two one two non si sente nessuno in chat di gioco se vuoi provare cos'è un overcraft? potrebbero mettergli l'overcraft in GTA non c'è nessuno eh Caratress se ti va sei contento il tuo amico Teo dai questo è Zancudo ci stanno chiedendo ci stanno chiedendo se vogliamo diventare nella brigata lì entriamo nella brigata Sassari no qui non lo apri eh questa questa recensione qui non non la apri si Francesco dopo quando quando ho finito l'accetto aspetta c'è rotta? ah perfetto cazzo aspetta qua ammette che non sono entrato io ah ok entra le richieste le accetto dopo quando ho finito qua poi accetto tutto don't worry be happy ahem cosa prende i C-130? provare la chat di gioco? ti seguo con l'altro aereo? 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 non Sorridi? Interceptor chiede se può unirsi alla crew di GTA 5 Io ho tutte le console PC, PS4, PS3, Xbox One e 360 Minchia Comunque si dai dopo chiedo a Caratress che è lui che manda gli inviti Si fai la richiesta e dopo Caratress ti accetta Mi chiamo Greg1908 Va bene Bum Nel palo Il giro è giusto Il giro è giusto Il giro è giusto Il giro è giusto di attacchi Grazie mille Grazie mille l'Interceptor Ma mai siamo andati qui Grazie Il zambanchero Minchia che taglio sulla coscia E E Eh Le ha tutte Ha la PC PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360 Un altro boss ha chiesto se posso unirmi alla sua banda Cosa? La base? No Non lo so Non lo so Se stai fuori dal perimetro Magari ti fermi qui Solo che da qui non vediamo niente O nell'hangar Perché di fuori non l'ho mai visto Forse nell'hangar Non la possiamo creare perché ci vuole un milione Poi diventare il boss Poi diventare il boss Ah Dibo Proviamo Se no io mi butto subito qui col paracadute Dobbiamo chiamare l'Ester per entrare Ha detto Giambanca E Usate l'ultima opzione Vela Vela Usate l'Ester per entrare e usate l'ultima opzione Per entrare a Zancudo Prova? Allora L'Ester Dov'è l'Ester? Ecco Ecco Glitch del duello? Non lo so qual è L'ultima L'ultima opzione è? Eh ma però ce l'ho grigia Perchè? 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 Non me la fa selezionare Daniele Toro 02 Daniel Toro 02 Cosa hai messo? Cosa hai messo? Io non ho capito perchè si attivano sti eventi viola qui Io non li voglio Io non li voglio Dice Interceptor che bisogna sbloccarli Quelli lì per far chiudere un occhio ai poliziotti Hai avuto un accenno per andar via Ok Aspetta che Aspetta che non son salito eh Sta chiamando Salgo? Ok Va bene Ah ecco perchè Perchè non c'è una minaccia in corso Perfetto Io adesso lo tengo Ce l'ho selezionato Eh non va Ok allora Wow Weirdo Come posso essere di servizio? Eh un momento se Devo aspettare che chiama Non va Qui dice che bisogna sbloccarlo col rango Ma io sono al rango 155 Non disponibile Si vede che per la base Non è disponibile Solo per i poliziotti in città Per me è così Eh Funziona solo per la polizia Non per una base militare Proviamo a prendere un caccia normale normale Vediamo se Portami la a livello di un caccia Su PS4 funziona Eh qua boh non so Ecco Ecco prendo quello lì Buono qui Buono qui Dai prima che mi sforacchiano Ecco ciao Sali Sali Merda Buon partito Vengo a darti una mano Vengo a darti una mano Un piccolo scudo rosso La li vedi Si sto andando Dove ci sono quelli gli scudi rossi Chi è che mi mira? Un trucco Un trucco Via partita Eh eh sì Un trucco Via partita Veloce Avvia attività da solo Riapri subito il telefono E poi vai in una missione di Lester Lamar Simeno Parola segreta Mantieni la solo Io conosco poi successivo Prova a schiantarti Fidati Quello di Trevor Eh quello di Trevor Quello sulla sabbia Roger Ci sono proprio qua sopra Lo sto sorvolando adesso Eccolo qua è qui sotto Eh vabbè Interceptor Adesso non ho capito bene Sto cosa Lo proverò poi Però adesso facciamo un po' di cazzeggio Così dai Eh lo Sono arrivato lungo No no è quello lì sulla sabbia Quello di Trevor Quello più piccolino a nord del lago Io non ti vedo neanche sulla mappa Buh Non ti vedo Ah adesso ti vedo No No Interceptor Lo faccio un'altra volta Con il glitch No Interceptor No Interceptor Lo faccio un'altra volta Ma io non vedo neanche dove cazzo devo atterrare Ma io non vedo neanche dove cazzo devo atterrare Dove è sta pista? Qui c'è la strada Qui c'è la strada Ah eccolo No non ce la faccio No Eh mi schianto Ho calato troppo il motore Fanculo Adesso mi devi un caccia nuovo Ma qui ci sono gli aerei per la disinfestazione Ma qui ci sono gli aerei per la disinfestazione E non mi fa selezionare le aree Ah vai a fare fuori quelli li Vero grande Perchè mi hai fatto venire qui di boh? Fanculo anche te Eh No le gare non Non mi piacciono tanto Facciamo un po' di cazzeggio così Si Si è avviato un robo Ancora no Ancora no Sono incazzati molto Fai un passaggio e buttali giù tutti Porca troia Aiuto Falli fuori te Io ti do sostegno Porca puttana Ma quanti cazzo sono Oh c'è il caro Eeeh Vaffanculo Oh Ciao Ricky Sir 2 Vaffanculo Fazzo di culo Bastardo Hi Hola Si Vittoria Oh ma chi cazzo è che spara ancora? Chi è? Si è attivato ancora l'evento Di Ammassa ammassa Fai male fai male Fai male Da Roma te o rima Ma chi è che spara? Questa è che Sì Mi ha Mi ha Mentre te o rima La mia Questa è quina Questa è quina Questa è che andiamo via qua ne fass più sono stanco di prendere le botte vorrei anche darle ma non ho capito mi lasci il cazzo a me? eh ma l'evento era finito li abbiamo fatti fuori ed è ripartito non so perchè aspetta che poi io non li vedo neanche segnati in rosso eh io sono di Rimini invece Caratress è di Milano e io non fumo io il bello non li vedo neanche segnati col pallino rosso capito? ok ok lo prendo e tu vai a prenderne un altro? ok eh aspetta che esco io ho Destiny GTA 5 e Magic Duels e poi l'8 marzo mi prendo The Division no ma non lo tiri se è troppo pesante no ma non lo tiri se è troppo pesante si cosa è? mi metti incinta? vedi che non lo agganza questo si li vedo si li vedo resti qua veicolo veicolo dobbiamo andare a distruggere dei veicoli va bene incarico del boss concluso non c'è un paghetto vabbò dai io mi giro che provo a decollare ok motori al massimo Vado Io parto Si ma sto sto cassa da aereo fuma Chi è qua che mi tirano Va a fumo No perché gli han sparato prima Allora Allora Dove cassa è forte mi inchiudo Sei già arrivato? Bene io faccio un po' di Sono sopra la base Porca troia Sono perso Oh ci sto girando attorno Eccomi Sono arrivato Dio mi han tirato su Se ti sparano con un carro armato mi sa che ti fanno secco Penso io Io sono qua dietro di te Ma te hai Hai il simbolino Il pallino che è un po' rosa Mi sa che hai ucciso un po' di persone Digli di ucciderti Gli invii il duello Aspetti che respawni Nuovo caccia Esci il duello Hai capito te? Mi devi uccidere Mi devi uccidere Inviare il duello Aspetto che respawni Nuovo caccia Esci dal duello Mi devi uccidere il duello Mi devi uccidere il duello e aspetta che rispawni nuovo cazzo ed esci dal duello no no tu ah no io allora uccidermi ah mi devi uccidere col cazzo vabbè dai facciamo così che qua il cervello sta lavorando più del previsto hanno avviato pirati di industria assalto lo yacht e conquista il ponte superiore per guadagnare denaro dai oh prendiamo sti cazzo di caccia e andiamo a far con la missione aspettami aspettami che ti do mal forte eh lui mi deve uccidere e io ti mando il duello praticamente dice xt7x ma qui stanno sparando da te sì 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 ma ti serve un trampolino di lanza Da lì non Perché stai zitto un giorno? Fatti i bravi non fate la guerra No non ce la fai devi fare quello lì dall'autostrada Che prendi l'aria in corsa Da qui non Non credo Ah no ce l'hai fatta Vediamo quanto ci può proteggere Per me la prima cannonata che ci arriva Solti a menare Comunque Stai lontano dai carri armati Oh boh Ci prendono a visto Questo detto O se entro io col car armato Ciao Interceptor Ciao Marco E' l'elicotterino qua Oh prendiamolo Vai vai Che culo Vai comandi Vai di qualcuno Vai di qualcuno Qui è che ci spara Dai o prendiamo Sti cazzo di cazzo di cazzo E andiamo ad assaltare Quel cazzo di yacht Di merda Ci stai O mi dide Boo Asso militare Aiuto Non te ne andare Non mi lasciar da su Che bastardo Non mi lasciar da su 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 No Questo è il vero Casseggio Marco Vedi Darne la fanga Non ce la fa Nooo Nooo Eh no Eh no Che cazzo C'è 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 Cazzo Cazzo C'è 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 c' la macchina no la steamsteading non lo facciamo, non ci piace è stato un po' te l'hai provato l'evento? Quello che diventi il lupo mannaro Io sì Minchia È arrivato un messaggio Un messaggio Un messaggio privato da Interceptor CSI li vedo tutti Nuove messaggi No, sono quelli di prima È ancora attivo lì l'assalto lo yacht Ho 565.000 Potrei andare a fare le modifiche alla macchina C'è le gomme davanti Non una bella convergenza Iscriviti al nostro canale Prendi un coda E qua che cazzo prendi? Ah Però E questo quando l'hai chiamato Prendi un po' No va bene questo qua E qui vicino Prendi un po' Prendi un po' Prendi un po' E qui E qui Prendi un po' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. So che non posso modificare un cast al momento. Parre duomi. Grazie. Grazie a tutti. 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 Bruscotto. Bruscotto. Portiere. Portiere. Sedili. Io ho questi. Spettacolo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao Marco. Grazie a tutti. Non mi ricordo. Cazzo di macchina. Dopo vado a vedere. Fammi fare. Voglio vedere un po' di... Tanto questo glielo posso mettere. No, cazzo. Sì, è la Banshee, credo. Però è quella modificata... Dal tipo qua che puoi modificare. Sì, adesso sì, perché il mio amico è andato via un attimo. Ebrea... Ebrea... Oh, questa, questa è la mia livrea. Solo che non ho un cazzo di soldi, non posso fare una segra. Minigone... Minigone... Va bene, dai. Guardavo un po'. Guardavo un po' le modifiche. Spoiler... Ce ne sono... Questo. Io... Guarda questo. Bagagliaio. Guarda il ciaio. Sì, sì, adesso guardo un po' di roba. Minigata. Permissione. Ehm. Per ancora. Grazie. Questa. Questa. Mi parla. Per ancora. Questa. 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 Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. 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 Sì, Sì. 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 Sì, Sì. 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 Sì.